Il gol, come hanno scritto, è un spettacolo. A me, quando sono partito con la palla, certo pensavo a fare il gol e sono molto contento che ho fatto un gol così. Giorgio E era un grande giocatore del calcio e ha vinto il pallone d'oro. Ha giocato molto molto bene e quando ho fatto un gol così era più grande nella età. Sono 19 anni e sono molto contento che ho fatto un gol così e spero di fare altro. Grazie mille. 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 Grazie mille.